Valerio Taras, S7, Santa Lucia, Roma. Valerio, che cosa ti dice Montreal? Eh, Montreal mi dice tanta felicità, tanta felicità perché ha raggiunto un bello obiettivo per quest'anno. Quindi mondiali, che grade prepari? Preparo il 50 stile, il 50 farfalla, 100 stile e 4 stile. Bell'impegno. Sì, sì, bell'impegno. Ma l'allenamento è cambiato in qualcosa intenso? Come ti stai allenando in questo periodo? Mi sto allenando maggiormente sulle gare sul 4 stile e molto sul 50 farfalla, che sono le gare che devo puntare meglio. Però sto andando forte. Da quanto tempo nuoti? Nuoto da quando avevo all'incirca 6 anni, quindi da parecchio tempo. Ma la tua disabilità a cosa è dovuta? Un incidente che ho avuto due anni fa. A causa di un tuffo mi sono rotto la sesta vertebra cervicale. Quindi diciamo che nuotavi prima dell'incidente e dopo ti sei reinventato, diventando campione sportivo. Sì, sì, sì. Non l'ho mai lasciato il nuoto, mai. Quindi il nuoto è importante per te? Sì, è la mia vita. Non mi resta che farti in bocca al lupo per i mondiali. Crepi.